Buono conciliazione per sostenere le spese educative domiciliari, start-up 03 per nedi private e dialogo pubblico con le famiglie. E' questo l'annuncio del vice sindaco Lucia Tanti che arriva a poche ore dal suono della prima campanella. Nel 2015, dichiara, ci furono tre scelte politiche di forte rottura con il passato e adesso le nuove misure che permettono al sistema educativo Aretino di centrare a breve l'obiettivo di liste di attesa 0 su tutta la fascia 06, obiettivo previsto per il 2026-2027. Si parte dunque dal buono conciliazione 2.0. A quelle famiglie cui bambini da 3 e 12 mesi sono rimasti fuori dal nido sarà riconosciuto un contributo economico sino a 2.000 euro per sostenere il costo aggiuntivo della babysitter. Nasce poi la nuova misura Start-up 03, un contributo a fondo perduto di 6.000 euro per il primo anno di attività dedicato a chi apre un nido privato accreditato. Genitori protagonisti 03 invece è un filo diretto con le famiglie ogni ultimo venerdì del mese, a partire da ottobre 2024, così che i genitori possano esprimere critiche e dare suggerimenti. Tre azioni che si sommano a scelte già programmate come nuovi investimenti, conclude Lucia Tanti dal nido Colombo i cui lavori procedono speditamente sino ad ulteriori accordi con privati accreditati.